Auteri, terza vittoria di fila, vittoria doveva essere, vittoria è stata soprattutto grazie ad un grande secondo tempo in cui avete avuto diverse occasioni per raddoppiare. Ma al secondo tempo la partita l'abbiamo sbloccata, però anche nel primo tempo abbiamo fatto bene. Come squadra è sicuro perché dal punto di vista dell'aggressione, sul loro possesso avremmo fatto 12-15 break importanti, anche alte, soltanto che poi sbagliavamo a dosare il passaggio, abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo nel primo tempo, ma ugualmente eravamo stati in grado di costruire situazioni importanti, con una condursa, un paio di condursi, con Cancellotti, con Ferrari, concedendo poco. Poi è chiaro che la partita l'abbiamo sbloccata e dopo abbiamo avuto tante altre possibilità. Nel frattempo dal punto di vista difensivo siamo rimasti sempre molto compatti, anche se facciamo diventare poi un po' le gare emotive perché negli ultimi 15 minuti rinunciamo a volte a giocare perché non ci vogliamo prendere dei rischi, però siamo stati risoluti perché comunque i tre davanti li abbiamo sempre mantenuti, loro un po' li sono scoperti e poi abbiamo avuto veramente tante possibilità per chiudere la partita. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo giocato da squadra, qualche errore tecnico nel primo tempo, molto più rispetto a quello che hanno fatto loro contro un buon avversario perché Limolese è una squadra ben allenata, organizzata e secondo me si tirerà fuori. È stato un bel banco di prova per noi. Routeri, vittoria più importante per la classifica o per il morale a poche ore dal derby di Ancona? No, ma per il morale noi dobbiamo continuare a giocare a calcio, essere così solidi, compatti dal punto di vista difensivo, essere propositivi, lo abbiamo dimostrato, essere aggressivi. L'abbiamo chiedito praticamente sempre a tutto campo, l'abbiamo fatto bene, scalando bene le posizioni proprio su quello che avevamo preparato. Poi ripeto, qualche errore tecnico nel primo tempo, però francamente sono entrato in campo alla fine del primo tempo, da fuori non si vedeva bene, insomma il campo dopo era diventato veramente molto, ma molto irregolare e quindi questa condizione anche ti fa commettere qualche errore in più dal punto di vista tecnico. Continuiamo a giocare da squadra. Per chiudere, mister, nel finale i giocatori sono andati a salutare i tifosi, c'è stata una bella festa, sono lontani, più lontani i tempi del 91esimo di Pontedera. Ma noi sappiamo che i tifosi ci vogliono bene, che amano la maglia, poi dipende sempre da quello che facciamo noi, noi dobbiamo accettare le critiche, i fischi, ma perché è giusto così? Sì, loro fanno sacrifici, vengono, noi lo facciamo per le professioni, anche se all'interno della professione che facciamo abbiamo comunque dei valori etici, morali importanti, senso di appartenenza, quindi è normale, è chiaro che ci fa piacere, ma noi vogliamo rendere loro felici. L'ultimissima, mister, quanto è importante la gara di mercoledì ad Ancona? Ma continuiamo, sono tutti importanti, adesso affronteremo un altro avversario forte, come Limolese, perché Limolese è una squadra forte, lo sapevamo, l'avevo già visto, è stato un bel banco di prova.